Ritengo che la Shoah superi il tempo in cui si è verificata e rappresenti un monito, una lezione, un insegnamento perenne che deve servire soprattutto per le giovani generazioni. Quindi la memoria come dovere e come responsabilità. Era il 27 gennaio 1945 quando l'esercito russo entrò per la prima volta ad Auschwitz, svelando l'orrore dei campi di sterminio nazisti. Nell'anniversario di quel giorno Sara Rimini ad ospitare le celebrazioni nazionali per la giornata della memoria 2021. L'ha deciso il comitato che riunisce Presidenza del Consiglio e comunità ebraiche su proposta del Ministero dell'Interno. Dal 22 al 31 gennaio testimonianze, mostre e incontri di formazione per studenti e insegnanti in presenza ma soprattutto online. Il 26 gennaio al Teatro Galli la consegna di otto medaglie d'onore assegnate dal Presidente della Repubblica ai familiari di deportati nei lager. La scelta di Rimini come città della memoria è sicuramente motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutto il territorio. È una città che si è impegnata da tempo nello studio, nell'approfondimento e nella ricerca degli ebrei, dei tanti deportati che hanno vissuto sofferenze e patimenti anche in questo territorio.